Ok, siamo qua con Giovanni Dall'Orto, che adesso si presenta un attimo e poi cominciamo con l'intervista. Sono un giornalista, un militante gay, ho fatto il giornalista di riviste gay per 20 anni e adesso ho appena finito di scrivere un librone di 800 pagine che uscirà tra 20 giorni per il saggiatore che si intitolerà Tutta un'altra storia, l'omosessualità dalla Bibbia al secondo dopoguerra. Che è un tentativo di fare una sintesi sul dibattito storiografico e però anche di fornire documenti sulla storia dell'omosessualità perché per quanto sembri strano in Italia non esisteva un libro del genere e quindi l'ho scritto. E appunto quali sono i motivi adesso nel 2015 di voler fare una storia del genere? A parte il fatto che in Italia non c'è un testo del genere, poi effettivamente qual è il senso? Il senso? Vabbè, la storia per ogni comunità è sempre fare storia e porre delle radici. Una comunità è fondamentalmente un gruppo di persone che si riconosce in un passato comune. Siamo italiani perché condividiamo una lingua che si è evoluta in 2500 anni, abbiamo letto gli stessi libri a scuola, abbiamo lo stesso passato e quindi la comunità omosessuale ha sempre questa necessità, essendo una comunità molto sfarinata, molto divisa, gli omosessuali sono un po' come i cuculi, nascono in famiglie eterosessuali, quindi ognuno di noi deve ricostruire un passato che non è comune perché ogni generazione la trasmissione della cultura si interrompe. Quindi è una comunità che ha particolarmente fame di storia, come ho visto all'accoglienza che ha avuto questo libro, non è ancora uscito, già mi ha chiesto di presentarlo in 12 città. Questo mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo, speravo andasse bene ma non così bene, quindi vuol dire che c'è un desiderio di ricostruire queste radici. E poi, oltre al motivo intrinsico, che è quello per me è stato più forte, cioè ricostruire le nostre radici, l'altro è che in questo momento nella società, nel mondo culturale ci sono in ballo delle teorie di cui credo abbiano sentito parlare tutti, le sentinelle in piedi, le teorie riparative che sostengono fondamentalmente la non sincerità, la non autenticità, quella che chiamano scelta omosessuale che viene presentata come una cosa arbitraria, come un'invenzione, come qualcosa che ci siamo messi in testa oggi perché siamo particolarmente perversi nella nostra società e quindi ci è venuto in mente di inventare l'omosessualità, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, eccetera. Allora, è anche utile, secondo me in questo libro mi sono soffermato su questioni di rilevanza attuale, cioè ho dedicato per esempio molto spazio alla ricerca sul matrimonio omosessuale nell'antichità che è una tematica che in realtà è una non tematica, la storia del matrimonio omosessuale in passato è molto semplice se ci provavi ti uccidevano, quindi non c'è veramente molto da raccontare però è molto interessante vedere come invece questa aspirazione sia un'aspirazione che risale indietro nei secoli c'è un caso interessantissimo per esempio di un gruppo a Roma nel 1580 di una ventina di persone che si ritrovavano presso la chiesa San Giovanni a Porta Latina uno di loro era un frate, un prete e celebravano dei riti matrimoniali nella chiesa naturalmente li hanno scoperti, ne hanno impiccati otto, gli altri sono riusciti a scappare hanno bruciato i loro corpi e addirittura gli atti del processo sono stati smembrati per tanto la cosa appariva folle però questa è già una risposta alla domanda perché vi siete messi in testa questa cosa oggi la risposta è non è oggi, non è da oggi, è una cosa che va avanti da secoli ci siamo messi in testa oggi perché adesso non ci potete bruciare più bene, per fortuna ecco, non ti aggiungerei e appunto i documenti, per la scelta dei documenti, quali ho optato, quali hai scelto, dove li hai presi come hai fatto a ritrovarli insomma appunto tu dietro questo libro c'è una ricerca che è durata 30 anni che in parte è finita sul mio sito e in parte ho pubblicato nel corso dei decenni ogni volta che trovavo uno spazietto ci infilavo dentro la mia biografia al mio fatterello storico per costruire una piccola banca dati va sottolineato che purtroppo in Italia scontiamo un ritardo nella ricerca del mondo accademico mentre all'estero di queste cose si pubblicano libri da 30-35 anni anche a livello accademico in Italia il mondo accademico è finora è stato proprio chiusissimo e non è un caso che questo libro lo scriva non uno storico di professione ma un giornalista che voglio dire non ha molto senso questa cosa però così è anche se devo dire che proprio nel momento in cui stavo scrivendo questo libro si è verificata questo libro è stato in lavorazione per tre anni quindi in questo lasso di tre anni e secondo me non è un caso si sono verificate una serie di pubblicazioni di libri di storia sulla tematica omosessuale che implicano che è maturata la società e il fatto stesso è che abbia trovato un editore per questo libro che in contemporanea stiano uscendo degli altri libri delle ricerche storiche implica che si è rotto un tabù nel mondo accademico che ci siano voluti 30 anni mi dice che è dovuta fisicamente morire una generazione di docenti che era proprio chiusa su queste cose ed arrivare a una generazione più giovane e più aperta di idee questo però ci dice anche quale sia il ritardo che c'è in Italia i documenti sono documenti d'archivio io ho passato molta della mia vita in biblioteca adesso per fortuna c'è Google Books che mi permette e permetterà anche volendo al lettore di recuperare gli originali di molti libri antichi che una volta erano molto difficili da trovare adesso sono online in pdf quindi evviva Google Books anche se non mi piace Google per altre questioni e ho cercato di fare per quanto possibile un testo che parlasse con i documenti quindi come dicono in introduzione è un libro un po' strano perché uno dice storie dell'omosessualità si aspetta di trovare Oscar Wilde, Michelangelo, Leonardo da Vinci Catullo, Virgilio, il battaglione degli amanti invece non c'è niente di tutto questo perché sono cose appunto che già più o meno ci sono a livello di coscienza generale e comunque di cui ho parlato nel mio sito quindi se uno proprio vuole le va a cercare nel mio sito o in altri siti analoghi al mio invece ho voluto parlare di cose non conosciute ho voluto parlare dei matrimoni omosessuali nella Roma del 500 dei poeti latini del 400 di tutta una serie di questioni che la gente non conosce quindi un tentativo di fare qualcosa di nuovo sperando che serva a far partire un dibattito e appunto un'altra domanda che volevamo farti era questa appunto tu, essere omosessuale nell'Italia di qualche decennio fa come è stato e come è stata insomma come si è evoluta anche la situazione io sono stato abbastanza precoce perché ho fatto coming out a 17 anni quindi nel 1976 ho vissuto da militante la mia vita quindi non ho le storie drammatiche che hanno altri miei coetanei passati 30 anni a nascondersi matrimonio di copertura i miei urti con la famiglia li ho avuti ma li ho risolti al punto che poi mia madre ha fondato l'associazione genitori di omosessuali quindi è palese che la questione nella mia famiglia è stata risolta e quindi ho vissuto la mia vita da persona omosessuale che non nascondeva quello che era e devo dire l'ho vissuta bene proprio per questo perché ho avuto difficoltà ma non penso di averne avute di più di quelle che ne è una donna con i problemi di carriera che è una donna o che ha il figlio di un italiano di prima generazione di immigrati è noto che la società discrimine diversi ma anche gli omosessuali discrimino gli extracomunitari per dire per cui è un bel gioco a chi discrimina di più gli altri per cui devo dire non ho vissuto male la mia vita come è cambiata la società? meno di quanto avrei voluto in realtà non mi sarei mai a spiegare adesso ho detto che nel 2015 saremmo stati ancora a chiedere quello che all'estero hanno già ottenuto da 15 anni come matrimonio ma non dico i matrimoni egualitari ma i PACS che all'estero ci sono da 20 anni ecco che l'Italia si mettesse così al fanellino di coda dell'Europa non me l'aspettavo perché quando eravamo partiti eravamo il paese con il più grande partito comunista al mondo quindi era un'Italia di sinistra che questo partito sia diventato un partito di centro cattolico e che abbia fatto un accordo organico con la Chiesa Cattolica diventando molto più clericale di quanto non fosse la democrazia cristiana se me l'avessero detto quando avevo 20 anni io non l'avrei creduto possibile ciò premesso quando parlo con gli studenti universitari di 20 anni devo anche dire che la loro visione di un'Italia immobile che è come negli anni 50 è sbagliata in realtà i cambiamenti sono stati molto nella società civile e molto poco a livello di classe politica cioè noi abbiamo questo tappo costituito da una classe politica che non abbiamo né eletto né scelto pensiamo che il nostro capo del governo sia candidato a sindaco di Firenze ed è capo del governo ed è il terzo capo del governo che scelgono senza neanche aver passato per un'elezione è chiaro che una classe politica così autoreferenziale non ci rappresenta più ma nella realtà della società la società è cambiata la mentalità è cambiata i sondaggi dicono che ormai il 51% è una maggioranza risicata però il 51% è favorevole ai matrimoni gay in Italia basterebbe una grossa campagna televisiva per farlo scendere al 48% per carità però non siamo più ai tempi in cui la questione doveva essere ancora presentata e diciamolo chiaramente 30 anni fa un'intervista come questa non sarebbe stata neanche pensabile non solo perché non c'era internet ma perché che una persona heterosessuale avesse voglia di discutere con un autore gay di un libro gay non era assolutamente contemplato quindi questa è anche un po' la misura di come nel frattempo l'Italia è cambiata l'Italia è cresciuta quindi non è quel disastro che spesso diciamo abbiamo una classe politica disastrosa ma a livello di cultura diffusa siamo riusciti a cambiarla quest'Italia poi un'altra domanda che volevo farti è appunto si può fare distinzione ancora nel 2015 tra mondo etero e mondo LGBT o mondo masessuale insomma chiamiamolo dipende da cosa intendi per fare distinzione distinzione intendo ad esempio appunto proprio chiamarli anche mondo etero e mondo LGBT perché ad esempio secondo me secondo il mio punto di vista la visione di sessi diversi di dover essere dover dire io sono questo e adesso sono così e quindi credo in queste cose e quindi ho questa visione della socialità scusate ma perché i sessi secondo te non sono diversi? beh i sessi sì sono diversi sul piano del nome per dire se io dico sono uomo quindi per te andare a letto con un uomo andare a letto con una donna è la stessa cosa perché i sessi non sono diversi se non per una questione di nome allora dipende ovviamente da chi vede la cosa almeno questo è il mio punto di vista ma parliamo di te perché quando si parla di sessi si parla del personale per dire per te è la stessa cosa uomo o donna allora io sono eterosessuale sì e quindi io faccio una scelta per cui dico sono attratto no tu fai una scelta e quindi dici di essere eterosessuale o in quanto punto eterosessuale io decido di effettivamente e come fai a sapere di essere eterosessuale da che cosa lo deduci? lo deduco dal fatto che fai una determinata scelta che fai una determinata scelta non ho mai trovato una determinata attrazione ancora perfetto e allora per te i sessi sono davvero così uguali? secondo me sul allora secondo me si vuole andare si cerca di andare verso una sorta di uguaglianza ma uguaglianza vuol dire monosessualità? mi intendo dire in parte sì allora mi spiego meglio appunto siamo subito entrati nella questione bruciante che sentinelle in piedi è dolce ma no perché non sono sentinelle in piedi vai vai no no ma sono le domande che poi ci costringono a porci queste persone perché creano intenzionalmente confusione mescolando questioni e impedendoci di distinguere è chiaro è palese le domande le faceva te ma semplicemente per mostrarti come nel modo in cui poni la domanda hai già implicato la risposta allora ti dico se poni la domanda in modo diverso la risposta cambia completamente è chiaro che i sessi sono diversi sono e devono essere diversi cioè c'è un diritto alla differenza tra uomo e donna la donna non deve essere discriminata nella gestione del potere nelle possibilità economiche in quanto ha una determinata biologia ok? la donna deve avere il diritto al sussidio di maternità perché biologicamente deve allattare lei non il padre ok? cioè la maternità che adesso viene eliminata sulla base del fatto di una pretesa eguaglianza è un diritto civile ma è anche un atto di buonsenso perché quando la togli come sta succedendo nei lavori precari le donne smettono di fare figli l'Italia ha una crisi demografica che è uno dei paesi al mondo con il minor numero di bambini perché è uno dei paesi con il minor numero di garanzie per la madre al momento della nascita di un figlio ok? quindi fingere che i sessi non siano diversi è semplicemente secondo me ma anche secondo la riflessione del mondo femminista uno strumento di oppressione non di liberazione capito una donna e un uomo non hanno biologicamente le stesse esigenze specialmente quando confrontate nel momento di quello che ha reso necessario la sessuazione nelle specie animali cioè il parto la procreazione ci ho detto di quello di cui stiamo parlando sono i diritti cioè i diritti civili devono essere identici quale che sia il sesso a cui appartieni e i vi inclusi aggiungerebbero tutta una colorita tribù del mondo queer il sesso a cui non ti senti di appartenere ossia se tu hai un orientamento di genere che non corrisponde al tuo sesso di nascita tipico il caso della transessualità o transgenderismo come vogliamo chiamarla hai dei diritti civili che indipendentemente dal fatto che tu si trovi bene nel sesso che ti è stato attribuito alla nascita la domanda che tu mi poni ha senso farlo da come è stato difficile riuscire a porla la risposta è implicita certo che sì perché vedi soltanto porre la domanda in quali intricazioni ci ha infilati perché c'è questa strana idea per cui dobbiamo vivere una società in cui siamo tutti uniformi per poter essere uguali e la mia risposta è ma anche no perché l'uguaglianza si realizza in una condizione di differenza cioè o riconosci il fatto che tutti gli esseri umani sono uno diverso dall'altro e hanno livelli di intelligenza di capacità di cultura di abilità diversi e l'uguaglianza è qualcosa che si riconosce nel senso è un vecchio slogan marxista ma funziona ancora da ciascuno secondo le sue possibilità e a ciascuno secondo i suoi bisogni ossia se tu hai un handicap motorio i tuoi diritti diventano un obbligo per gli altri non puoi chiedere a una persona che ha un handicap fisico di dare lavorativamente lo stesso che danno gli altri devi concedergli delle condizioni più favorevoli allora come vedi l'uguaglianza si realizza attraverso una discriminazione positiva non dimentichiamaci che l'handicap teoricamente era quello che veniva messo su un cavallo che vinceva sempre tutte le corse era un peso aggiunto un handicap per impedirgli di vincere tutte le corse lui e la metafora è molto carina peccato che qua l'handicap venga messo addosso a una persona invece che non era destinata a vincere tutte le corse che gli impedisce di arrivare prima in questa società in cui c'è questa ideologia liberista per cui bisogna essere dominanti vincenti arrivare sempre primi non c'è posto per i secondi e terzi arrivati figuriamoci poi per gli ultimi arrivati non solo l'uguaglianza è qualcosa che va costruito e non viene più costruito pensate a Renzi con il suo Jobs Act dà dei soldi per rilanciare l'economia ottima idea a chi li dà i disoccupati che non possono spendere no, li dà a chi ha già un lavoro in regola questa è la logica in cui viviamo e non ci si riesce neanche più a rendere conto del fatto che forse i soldi vanno dati a chi non ha soldi non a chi li ha già non è culturalmente previsto la nostra società è fatta in modo per cui quando si parla di uguaglianza si tende a dare i soldi cioè a occasioni agli eterosessuali perché non bisogna discriminare i poveri eterosessuali viviamo in un contesto in cui essere omosessuali ti crea delle discriminazioni adesso io non voglio fare quello che si piange addosso poveretti noi ci frefriamo tanto fin da quando siamo piccoli ci discriminate perché la cosa importante del nostro discorso è il concetto di normalità è un concetto puramente statistico io sono anormale riguardo il mio orientamento sessuale ma quando vado a parlare con un extracomunitario che non è cittadino italiano non parla la mia lingua sono io il normale e lui la normale ma anche se poi magari lui è eterosessualissimo quindi in momenti diversi la stessa persona è normale o è diversa l'uomo è diverso dalla donna il giovane diverso dal vecchio la persona colta da quella la nostra vita è fatta di diversità e la comunità si realizza portando insieme tutte queste diversità trovando una sintesi un rispetto reciproco ci sono diversità che non vanno rispettate per esempio il nazismo era normale essere nazisti sotto la Germania di Hitler ma questo non significa che perché lo è stato lo debba essere anche oggi io su questo sono intollerante e invece tutta una serie di realtà che dobbiamo imparare reciprocamente a rispettare nella misura in cui non non chiedono a noi di cambiare il nostro stile di vita la nostra mentalità voglio dire la mia richiesta di vivere da gay non implica che debba vivere tu da gay perché la mia richiesta è che tu la smetta di chiedermi siccome tu sei eterosessuale anche io debba fare le tue scelte in questa mia ultima affermazione c'è la risposta alla tua domanda certo che c'è una comunità gay e se non ci fosse bisognerebbe crearla nel senso che le nostre esigenze sono diverse da quelle della maggioranza eterosessuale non abbiamo le stesse esigenze non abbiamo gli stessi ritmi la nostra vita non è scandita dagli stessi ritmi non abbiamo le stesse esigenze il fatto che l'eterosessualità sia una maggioranza è un dato di fatto oggettivo il 95% della popolazione è eterosessuale questo vuol dire che tu puoi andare per strada e se incroci una ragazza che ti piace dare per scontato che 95 volte su 100 è eterosessuale gli omosessuali essendo minoranza hanno innanzitutto un bisogno di trovarsi fra di loro di riconoscersi adesso grazie agli smartphone viene risolto un problema che angustia da millenni gli omosessuali ossia la geolocalizzazione riuscire a trovare qualcun altro che per strada è omosessuale come te adesso se hai Grindr hai delle app per cellulare riesci a farlo una volta no allora bisogna di creare luoghi di incontro che creano sempre un pericolo perché il luogo di incontro è un luogo che può essere devastato dai nemici e poi appunto il problema è proprio questo esistono delle persone eterosessuali che si ritengono in dritto di punirti per il fatto che sei omosessuale di picchiarti o di ucciderti questo è un fenomeno che gli eterosessuali non riescono assolutamente a comprendere me ne vado per la strada con la mia ragazza un gruppo di omosessuali mi attacca mi picchia picchia a me la mia ragazza e magari mi uccide anche a botte questa è una cosa che succede di continua in Italia ogni tanto questi casi finiscono sui giornali ma non finiscono per caso finiscono perché esiste un movimento di liberazione che li denuncia cioè denuncia il fatto che succedano perché fino a poco tempo fa la risposta è se la sono andata a cercare andavano in giro mano nella mano quindi è una punizione meritata perché puoi anche essere omosessuale purché tu non viva questa tua diversità purché tu non la manifesti come sia possibile vivere una condizione umana senza manifestarla è il grande mistero la grande domanda che il mondo gay fa al mondo eterosessuale ed è la pretesa che gli eterosessuali continuano a fare sì va bene siate gay però non fate gli esibizionisti non esibitelo però con discrezione dopodiché vedo che gli eterosessuali vanno in giro con un anello che mi informa sui riti di accoppiamento nuziale che hanno esercitato loro ostentano tranquillamente questa cosa ci sono riviste che si chiamano famiglia cristiana che ostentano i loro riti di accoppiamento e invece noi dobbiamo viverlo con discrezione è chiaro che in tutti questi ragionamenti benevolenti che ci dicono non dovete costruire una comunità perché sarebbe ghettizzante le parole sono di mieli ma dentro quel miele c'è il veleno per cui vanno assolutamente rimandati al mittente anche nell'intervista no grazie perché tu sei il portavoce rappresenti un punto di vista diffuso tra i ragazzi della tua generazione e quindi è giusto che venga espresso in modo che io possa poi trattarmi male rispondendo ah ok perché però secondo me la questione non si esaurisce nel senso una risposta giusto o sbagliata non c'è secondo me ma nessuno di noi ha la verità sono punti di vista che si confronta quello che ti dico io è parlare di due mondi differenti quindi il mondo eterosessuale il mondo omosessuale che poi tu dicevi ci sono no delle esigenze dei bisogni diversi anche lì non lo so cioè non so se sia così secondo me non lo è perché perché io che volendo mi voglio sposare ok non posso avere poi gli stessi ritmi di una famiglia eterosessuale cioè perché io non posso mettere in centro il tuo marito e aspettare insieme la natura non mi permette di però perché abbiamo già trovato una differenza ok però allora a noi in realtà non possiamo cioè il fatto dell'elettricità le varie cose ce le siamo create noi noi siamo qui in una bellissima casa con il tetto il tetto non ce l'ha dato nessuno ce lo siamo fatti noi la stessa cosa vale per i figli aspetta un attimo se a me non permetti di avere se io non posso naturalmente no cioè come diciamo primo meccanismo fisiologicamente avere un figlio lo posso però avere in un altro modo quale? ok adottarlo oppure esattamente adottarlo ci sono 30 famiglie che richiedono l'adozione per ogni bambino in stato di autobietà cosa fai? crei delle fabbriche in Thailandia per cominciare a produrre figli ma no perché ora come ora non c'è una richiesta così elevata ci sono un sacco di bambini che hanno delle sofferenze stiamo parlando di mercato però in questo momento no secondo me no chi sono questi bambini che hanno delle sofferenze? sono delle bambini che nel mondo anche qui in Italia ci sono un sacco di bambini che hanno deutraumi come quelli che vivono nelle case famiglie chi sono questi bambini? sono figli di famiglie eterosessuali sono figli di famiglie che età hanno? e beh qui dipende io poi non lo so 7, 8, 10 anni sono figli di famiglie no anche fino ai 17, 18 anni quando poi raggiungono la maggior età vedi adesso non cominceremo a imparare di adozione perché è un argomento che da solo meriterebbe però è quello che volevo dire ferma ma tu hai l'idea dell'adozione come io vado a prendere un bambino in una casa di adozioni così come voglio un cane vado nel canile trovo un cane abbandonato e me lo porto a casa ferma secondo me la differenza basilare tra il cioè la coppia omosessuale se vuole un bambino ok diciamo che ci fa una riflessione sopra molto più profonda rispetto in alcuni casi alla coppia eterosessuale però adesso non entriamo nella questione dell'adozione perché è veramente il mio discorso dell'adozione era perché torniamo un passo indietro non c'è la differenza necessariamente tra il mondo omosessuale e il mondo eterosessuale perché ci sono dei ritmi e delle esigenze diverse tu hai messo dentro la parola necessariamente che vuol dire che facendo un piccolo sforzo riusciamo a negare l'evidenza cioè che la differenza invece c'è l'errore a questo punto ti parlo come esponente della tua generazione l'errore della tua generazione è di avere dato un valore qualitativo alla normalità è un valore negativo alla diversità la diversità è un concetto puramente statistico è diverso ciò che la maggioranza non fa era normale essere nazisti nella Germania di Hitler non era normale in quanto tale il fatto di essere diversi di riconoscere la propria diversità è una cosa secondo me che dovrebbe essere appunto normale in chi lo è se tu sei un alto attesino e parli tedesco non è normale essere un cittadino italiano e parlare tedesco però nella zona in alto adige è normale ok e non è anormale parlare tedesco in Germania allora dire che gli alto attesini sono una minoranza linguistica non è un errore e cominciare a dire ma perché questi pretendono avere i documenti di identità in tedesco perché vogliono questa discriminazione la risposta è li vogliono perché sono diversi ci sono dei trattati internazionali in base ai quali siamo tenuti a fare delle carte di identità bilingue in alto adige su Tirolo come si dice se noi siamo diversi perché dobbiamo fingere di non esserlo semplicemente perché abbiamo questa ansia di normalità siamo subito finiti a parlare di matrimonio e adozione come se la procreazione non fosse invece il grande punto interrogativo che rende diverso una coppia omosessuale da una coppia eterosessuale e questo non è una costruzione sociale la costruzione sociale è impedire il matrimonio l'impossibilità di procreare all'interno di una coppia omosessuale perlomeno con i due conigi perché poi una coppia lesbica può anche procreare con l'inseminazione assistita o anche semplicemente andando a letto con l'amico della famiglia quindi in modo assolutamente naturale è un dato di fatto oggettivo anzi a questo punto di vista dovremmo smettere di trattare le coppie lesbiche e le coppie gay nell'interno dell'istituto matrimoniale come se fossero unica realtà sono due realtà diverse fra di loro quindi vedi la diversità è una cosa molto più diffusa di quanto sembra io non sto negando la diversità assolutamente sto dicendo che secondo me imporsi a dire esiste un mondo omosessuale che è minoritario e un mondo retrosessuale che è maggioritario necessariamente obbliga la persona che può essere l'adulto il ragazzo e l'adolescente e secondo me a fare una scelta a fare una scelta poi tu mi dici vabbè e fare scelte è una cosa importante fare scelte è la cosa che fa l'adulto il bambino non fa scelte perché c'è qualcuno che le fa per lui l'adulto fa le sue scelte secondo me è come se non so tu dovessi creare qualcosa e ti si dice lo fai così o lo fai così ok cioè su quel modello lì o su quel modello lo fai così o lo fai così o lo fai così o lo fai così puoi cucinare una cucina italiana puoi fare la cucina vegetariana puoi fare la cucina vegana lo fai così o così il problema è che non puoi cucinare la carne e fare vegano questa è una scelta a fronte di cui la vita ti mette e di fronte alla tua generazione che non è più capace di fare scelte perché scegliere è brutto devi inirsi e limitarsi ogni scelta ha una limitazione questo è vero se cucini le polpette non stai cucinando vegano se cucini le polpette vegane non stai mangiando carne però secondo me l'ultima cosa il problema è proprio questo del doversi necessariamente e cioè doversi considerare un qualcosa di diverso non in tutto e per tutto però nelle cose diciamo nel maggior numero di cose ma se siamo diversi perché ci doversi considerare secondo me no io ti dico la verità da ragazzo di 21 anni io mi sono informato no eccetera la visione della generazione anche solo di una generazione è la generazione degli anni 80 ok non vado troppo indietro degli anni 80 hanno un modo di concepire il loro stessi rispetto alla società italiana perché poi secondo me la società italiana ha tutto un suo perché nel senso che è tutto un suo eccetera ok un micromondo eccetera cioè è una cosa l'avevo come cosa negativa perché non ti permette di appunto interagire con gli altri la comunità che cos'è è accettare le diversità però stare insieme quindi per me concepire due mondi diversi è una cosa negativa tu sei il prodotto la tua generazione è il prodotto di vent'anni di martellamento anticomunitario più privato meno Stato lo Stato è il problema non la soluzione il socialismo è brutto è cattivo eccetera che ti impedisce di vedere che la comunità è esattamente l'opposto di quello che hai detto la comunità è un insieme di persone che si riconosce negli stessi valori cioè non un gruppo di persone che esclude le altre come hai appena teorizzato tu perché questa è la visione eterosessuale la società no io non ho teorizzato questo mi hai frainteso beh dopo chi guarderà su youtube sentirà che cosa hai detto ma io la comunità la teorizzo la vivo la mia generazione come un aspetto inclusivo non esclusivo comunità è qualcosa che include tutte le persone che si riconoscono nella tua visione di vita che condividano le tue esigenze e la tua visione del mondo nella mia esigenza e la mia visione del mondo non esiste il matrimonio eterosessuale per esempio e questo ti assicuro che non è una cosa piccola perché tutto questo minimizzare che portano avanti i nostri uomini politici che dicono ma insomma anche se non hanno il matrimonio che cosa hanno li stiamo forse discriminando è una cosa talmente piccola possono fare tutto il resto ma la nostra vita è costruita intorno alle famiglie ai rifi delle famiglie alle famiglie matrimoniali siamo nati da famiglie matrimoniali da cui noi siamo esclusi allora costruire una comunità significa riconoscere dei valori e soltanto Dio sa quanto il mondo gay ha bisogno di valori in questo momento perché adesso voi volete costruire questa famiglia che da come la presentate è un clone sputato della famiglia eterosessuale in cui siamo nati tutti e questo è sbagliato proprio perché non siamo eterosessuali è inutile come si dice spesso scignottare un modello di famiglia che non è stato costruito per noi è stato costruito per una determinata esigenza ma con una serie di ruoli di divisione dei ruoli il marito va fuori a lavorare la moglie sta in casa a farla a casa che nella coppia omosessuale non è semplicemente applicabile nella coppia omosessuale bisogna oh non è vero secondo me non è vero va bene allora io sono convinto che essere giovani ti da il privilegio di andare a sbattere contro il mondo per cui quello sicuramente assolutamente se non mi vuoi credere lo sperimenterai io anche credo non ti voglio credere non ti vorrò credere perché mi sembra una visione un po' troppo non mi piace tanto sovversiva ok no non sovversiva però boh non mi piace mi sembra che mi sembra mi dà l'idea di una visione neanche a me piace il fatto che dobbiamo morire però morirò io morirà tu e morirà lui certo non è una questione se io ti dico ricordati che devi morire non mi puoi dire non mi piace questa cosa neanche a me piace però rimani e lo so vabbè quella è allora il fatto che la coppia omosessuale non è la stessa cosa della coppia eterosessuale che l'esperienza omosessuale è diversa dall'esperienza eterosessuale pensa soltanto al fatto di come rotei l'esperienza omosessuale intorno alla scelta del coming out deve venire fuori che l'eterosessuale non ha perché ti si dà per scontato che sei eterosessuale ma tu dai per scontato che sia necessario fare coming out cioè che tu debba dire alla società tu in questo momento l'hai fatto su youtube si ma io assolutamente non ho cioè non ho bisogno se non lo avessi fatto non saresti su questo filmato per cui si lo do per scontato assolutamente io avrei potuto parlare con te parlare con te in astratto no in astratto no sono un cultore della materia che ha un interesse e noi quando vediamo arrivare un cultore della materia che ha un interesse astratto diciamo un'altra povera che è cavelata che non sa neanche lei che cosa è non è io in questo caso non è quello il punto il punto è che ci sono dei meccanismi che sono tipici della realtà della storia della cultura omosessuale di negazione di sé non mi ci ritrovo comunque ti dico io personalmente poi sono una semplicissima goccia perfetto ma guarda è stato molto importante e interessante avere questo contraddittorio perché esemplifica nel concreto quando io dico il bisogno di avere una cultura condivisa all'interno della comunità omosessuale ne abbiamo un esempio in questo battibecco che abbiamo appena avuto perché la comunità omosessuale è carente di valori condivisi di visioni condivise dopo di che il fatto di essere omosessuale non implica che dobbiamo avere visioni condivisi vuol dire semplicemente che la comunità deve proporre dei valori che poi verranno discussi accettati o rifiutati la comunità omosessuale è un cerchio sul terreno chi sta all'interno di questo centro è dentro chi sta fuori è fuori questo non impedisce nessuna scelta perché sei tu che stabilisci se devi stare dentro o stare fuori con la massima libertà però la domanda che mi avete fatto è se questo cerchio sul terreno deve esistere la risposta è sì proprio perché permette delle scelte una delle quali è affrontare una terapia riparativa e aggiustare la propria omosessualità diventando eterosessuale sposandosi con una donna e facendosi perdonare da Dio per tutti i peccati che ci sono ma questa è una visione tipicamente italiana no è una visione mondiale perché le terapie riparative nascono negli Stati Uniti e da me vengono solo importate però ti voglio solo fare notare come nella tua visione dicotomica per cui no vabbè tricotomica per cui o sei un eterosessuale tradizionale o sei un omosessuale tradizionale o sei niente non trova spazio a tutta una serie di altre alternative sia un omosessuale che si nega per esempio il ruolo che è cavelata che è plurimillenario come tradizione continua a essere omosessuale di nascosto in segreto fai la doppia vita ti presenti agli altri come eterosessuale ma in realtà vivi una vita nascosta che è una scelta che la nostra vuol dire fare necessariamente una scelta cioè fingersi di appartenere ad un mondo perché non si vuole appartenere ad un altro e non ci si riconosce diciamo la stessa cosa quindi secondo me la checca velata è il prodotto e il risultato di quel voler necessariamente per forza dividere i due mondi secondo me la velata è una persona che sceglie di non fare la scelta di non aspettare la propria scelta e allora fa parlare a me che sono io l'intervistato assolutamente l'errore fondamentale è credere che anche il non scegliere non sia una scelta non puoi non fare scelte se sei una persona adulta che tu scelga di essere gay che tu scelga di essere etero non si sceglie che cosa si è si sceglie che cosa vivere di fronte agli altri o se tu scelga di non scegliere e quindi fai cosa si chiama la doppia vita hai fatto comunque una scelta l'unica cosa che possiamo dire è che la scelta di chi fa la doppia vita è una scelta insincera perché come minimo parte dall'inganno della parma assolutamente non sto giustificando e nota bene che io sono altrettanto contrario alla scelta gay da parte di un eterosessuale quanto di quella eterosessuale da parte di un gay nel senso che contrariamente a quanto dicono i sostenitori delle terapie riparative noi non vogliamo fare diventare gay gli etero prima perché non ce ne frega niente a parte quando ci sono certi buonazzi in effetti che ti dice tanta carne sprecata peccato non sia gay vabbè ma è una battuta questa però l'idea delle sentinelle in piedi che noi vogliamo convertire i bambini per reclutare è una minchiata perché tutti noi sappiamo che non siamo stati reclutati da nessuno ci siamo svegliati un giorno e ci siamo accorti che ci piaceva il compagnino di classe che ci eccitavamo quando facevamo ginnastica i nostri compagni ognuno ha avuto il suo modo magari faccio oggi i ragazzini hanno visto il videoporno online vabbè voglio dire ma è qualcosa che non abbiamo scelto è qualcosa con cui abbiamo dovuto arrivare a patti la doppia vita è una scelta di non venire a patti ed è una scelta in sincera si basa sull'inganno allora finché inganni i colleghi di lavoro gli elettori chi se ne frega voglio dire se un domani mi candidassi non mi candiderei per raccontare ai miei elettori con chi vado a letto ok? per cui la doppia vita di un politico mi può ancora andare bene ma quando tu ti sposi con una donna e le racconti una palla e gli presenti quello che tu non sei infatti giustamente l'omosessualità nascosta del coniuge è uno dei motivi fondanti del divorzio addirittura dell'annullamento del matrimonio cattolico quindi persino i nostri avversari riconoscono che la profonda insincerità dell'omosessuale che si sposa rende nulla la promessa che ha fatto e tu questa me la presenti come un uscire dalle scelte obbligatorie commento beh io già la parola avversario non la utilizzerei mai la chiesa non è il nostro avversario ma in che mondo vivi bello no guarda io ti dico ma no perché nel migliore dei mondi possibili no non vivo nessun mondo non vivo in un mondo migliore possibile ma guarda che tu vivi in questo mondo anche se non pensi di viverci perché io sono purtroppo per fortuna figlio ovviamente della mia società tutti lo siamo sì sì però nessuno può pretendere la posizione di sono fuori dalla storia perché la storia dentro di noi per questo scrivi libri di storia poi siamo il prodotto di quello che l'evoluzione storica ci ha fatto essere è un modo di vedere diverso assolutamente non completamente diverso assolutamente però alcuni aspetti non mi faccio fa parte anche un'età nel senso che alcune cose si possono solo sperimentare accorgersi di come adesso io non so se tu abbia una relazione o no ma non mi interessa non è questo il punto ma nel momento in cui cerchi di vivere la tua relazione come tutti gli altri ti rendi conto che invece non puoi perché esistono delle barriere che non sono il problema non è andare all'anagrafe certo il problema è come ti divano gli altri i problemi sono i problemi con il vicino di casa però secondo me è inevitabilmente questo prodotto cioè questo che tu mi stai dicendo questa difficoltà nel poter essere noi stessi cioè la coppia omosessuale non può essere se stessa come vuole sempre comunque ovunque è data da una divisione necessaria dei due mondi il problema è che la coppia omosessuale deve essere se stessa che cosa vuole dire io sono un passo indietro sono nel cercare la definizione di che cosa deve essere una coppia omosessuale per essere se stessa per esempio una parte del mondo gay che conosci sicuramente sostiene che per essere se stessa deve evitare il matrimonio perché il matrimonio è una costruzione sociale borghese ottocentesca capitalistica è un'istituzione lager per cui l'omosessuale per essere se stesso deve assolutamente evitare il matrimonio siamo d'accordo su questo? quella è un'opinione tra le tante ma è proprio quello che sto cercando di mostrarti che quando hai detto essere se stessi non hai detto niente in realtà il lavoro di riflessione teorica che stiamo facendo con questo libro di storia ma anche con il movimento gay è riuscire a capire che cosa vuol dire per un omosessuale essere se stesso essere se stesso include la paternità della maternità non l'ha mai la realtà omosessuale ha sempre escluso la genitorialità noi siamo la prima generazione della storia in cui ci si pone scientemente l'idea della genitorialità omosessuale cioè sono gay sono lesbiche voglio dei figli perché questo desiderio fino a vent'anni fa è stato risolto attraverso il matrimonio etrosessuale vuole dei figli ti sposavi e li facevi in tantissime zone del mondo è in atto ormai da anni che cosa è in atto? l'omosessualità esatto ma anche in Italia ormai ci sono centinaia di bambini nati in coppie omosessuali specialmente le lesbiche che stanno figliando io quando vado ai gay pride e vedo questa fiotta di bambini davanti al pride mi si rizzano i capelli in testa perché dove sono finito però invece è bellissimo perché implica che siamo una comunità in evoluzione ma il fatto che siamo in evoluzione non implica che non siamo una comunità o un mondo implica che lo siamo e lo siamo a tal punto che abbiamo addirittura una storia possiamo percorrere con la memoria gli anni in cui questo non avveniva in cui comunità omosessuale escludeva i bambini e questo è stato possibile perché abbiamo costruito la comunità non perché non l'abbiamo costruita perché è stato fatto un lavoro di riflessione e di proposizione dell'omogenitorialità che adesso pone una questione di diritti che non sono diritti individuali sono diritti sociali collettivi se sei padre di un bambino e sei gay se il tuo bambino è discriminato non perché ti chiami come ti chiami o vivi dove vivi ma perché sei una coppia omosessuale questo problema tu ce l'hai in comune con tutte le altre coppie omosessuali che hanno dei bambini sono problemi sociali collettivi la comunità esiste perché questi sono problemi comunitari la comunità esiste che tu la voglia riconoscere o non la voglia riconoscere la società non la vuole riconoscere non ci vuole riconoscere come interlocutori e io dico e anche questo mio è un punto di vista che può essere esecrabile finché ti pare però è il mio punto di vista che nel dire la comunità gay non deve esistere tu non stai facendo altro che ripetere un punto di vista che è quello della maggioranza che non vuole che esistano realtà organizzate al proprio interno perché vive e presenta un'unica scelta di vita quella eterosessuale se tu senti i cattolici integralisti addirittura sono contrari al concetto di orientamento sessuale perché c'è un unico orientamento quello naturale tutte le altre sono deviazioni quindi non ci sono omo etero bisessuali esistono solo gli eterosessuali e i malati tu cosa rispondi? rispondo rispondo che si può assolutamente discutere e che poi la verità con questi li butto giù dalla finestra comunque quello che ci tengo a dire dico solo che non sto dicendo che io non voglio riconoscere il mondo omosessuale dico solo che dividere il mondo omosessuale il mondo omosessuale è che tu lo riconosca o non lo riconosca non è un problema che tu lo riconosca io personalmente visto che mi sono permesso di controbattere ok diverso dal mondo eterosessuale però quello che dico io è che non c'è bisogno di creare antagonismo secondo me è un po' quello che è stato fatto con le generazioni precedenti il problema di questa nostra conversazione e poi scusami l'ultima cosa il mondo omosessuale cioè non è che sia un mondo omosessuale la pensano tutti allo stesso modo come tutti gli eterosessuali è per quello che io dico cioè alla fin fine sono due mondi che si mischiano su tante questioni alcuni si uniscono allora il problema di questa conversazione sono le implicazioni il non detto le cose che tu dai per scontato senza averci riflettuto sopra hai appena detto che non devono essere antagonistici la domanda è perché dovrebbero esserlo chi ha mai detto questa cosa tu dai per scontato che una comunità omosessuale debba essere per forza antagonista non sto dicendo non sto dicendo quello io sto dicendo su quello che su come lo percepite è come quelli che non vogliono fare costruire le moschee perché vedono le moschee come antagonistiche rispetto al culto cattolico tradizionale italiano perché deve essere antagonistiche è alternativo dov'è l'antagonismo? ti dico quello che percepisco io sì lo percepisco però secondo me ripeto sempre il punto di vista discutibile in base a una propaganda che ti hanno martellato nella testa secondo cui le comunità sono sempre negative perché la società deve essere monolitica unica deve esserci un'idea un vestito che si adatta invece il stesso fatto che tu abbia detto antagonistico perché antagonistico? deve essere alternativo deve fornire dei valori coniugati secondo le esigenze l'insegnamento della lingua tedesca in alto adige non è antagonistico alla lingua italiana è alternativo tant'è vero che i bambini tedeschi imparano l'italiano e i bambini italiani studiano il tedesco per imparare un altro discorso infatti c'è una mescolanza ho capito ma ci sono due tipi di insegnamento però ci sono due perché ci sono due comunità linguistiche allora per poterlo fare si è dovuto riconoscere il fatto che queste comunità esistevano e sono state anche messe le bombe sotto i tralicci dell'alta tensione per arrivare a questo adesso noi non arriveremo mai al terrorismo per fortuna forse ma che la maggioranza italiana non volesse riconoscere i diritti linguistici dei tedeschi in Sud Tirolo è un dato di fatto storico che il fascismo abbia represso impedito l'uso della lingua tedesca in Sud Tirolo è un dato di fatto storico che la comunità eterosessuale maggioritaria il 95% non voglia riconoscere i diritti linguistici della comunità omosessuale è un dato di fatto che poi tu si ritrovi in questo punto di vista è tuo diritto e qui viene la seconda cosa che mi dicevi che è vera il fatto che siamo tutti froci non vuol dire che dobbiamo pensare allo stesso modo su tutto implica semplicemente che dovendo scegliere a una festa con chi andare a letto alla sera probabilmente io e te puntiamo le stesse persone cioè non persone di sesso femminile e questo è tutto tutto il resto è una costruzione una costruzione sociale in primo punto perché non si vive l'omosessualità in Italia come la si vive in Arabia Saudita o in India ma anche negli Stati Uniti non la si vive oggi come la si viveva 200 anni fa 200 anni fa nessuno avrebbe discusso pubblicamente delle sue scelte davanti a un pubblico potenziale di milioni di persone e non la si vive nello stesso modo in età diversa della vita perché alcune cose le dico per esperienza altre le dico non per esperienza quando io parlo di costruire una comunità omosessuale è proprio di questo del fatto che dobbiamo cercare dei valori comuni e fondanti di uno stare insieme ma attenzione la comunità nella mia visione e non nella tua è una condivisione di valori di scelte e di solidarietà non è non facciamo comunità per buttare fuori gli etero facciamo una comunità per tirare dentro quelli che sono troppo deboli troppo in difficoltà per poterci stare dentro facciamo comunità per aiutare l'ondata che sta arrivando di italiani di prima generazione che sono nate in famiglie islamiste con una cultura ipermaschilista che vengono sposate le rag bambine pakistane sposate a 14 anni a un cugino in pakistan ma che hanno vissuto la loro intera vita in Italia che magari sono lesbiche di matrimonio proprio non ne vogliono sentir parlare che cosa possiamo fare per loro e qualunque cosa decidiamo che possiamo fare per loro non possiamo farle se non cominciamo a concepire l'idea che queste persone appartengono alla nostra comunità perché poi possiamo anche dire ma quelle sono extracomunitari cazzo ce ne frega allora che cosa abbiamo in comune io e una ragazzina pakistana lesbica di 14 anni l'età no la cultura no la religione no magari neanche la lingua no perché quella parla urdu e io parlo italiano che cosa possiamo avere in comune la mia solidarietà nei suoi confronti da che cosa può nascere io sono maschio e lei è femmina allora la comunità è il l'attaccapanni è un chiodo nel muro ok a cui attacchi i concetti che vogliamo utilizzare è un modo per riconoscerci come parte di una stessa realtà senza questo concetto non è possibile solidarietà non lo facciamo per escludere gli eterosessuali non lo facciamo per escludere il marito della ragazzina lesbica quattordicenne pakistana non è quello lo scopo lo facciamo per offrire a questa ragazzina un'opzione una scelta un'alternativa se poi farà le sue considerazioni vedrà che le conviene di più sposarsi il cugino pakistano che è ricco anziché fare lavorando in un call center in Italia deve avere questo diritto di farlo ma deve avere l'alternativa certo però dico l'ultima cosa la bambina pakistana che appunto ha lesbica che deve sposare il cugino si trova in una situazione perché perché lei è all'interno di una comunità eterosessuale bravissimo ed è anche di una comunità pakistana ed è all'interno di una comunità italiana che discrime gli extracomunitari eccetera io parto da un principio secondo me molto astratto poco attualizzabile ok e soprattutto cioè da mettere in atto è molto difficile cioè pensarci come comunità dividere creare due comunità solo per i cugino ma perché dividere ma vedi che siamo veramente un primo diverso per te comunità è qualcosa che divide per me è qualcosa che riunisce eh sì quando dici che c'è un conflitto generazionale è vero però se mi permetti non per barbonaggine se io ti dico che concepire le comunità come luoghi di unione anziché come di divisione è molto più costruttivo spero che tu veda almeno il mio punto nel senso che sì però io ti dico in base solo le diciamo creare queste due comunità solo per il gusto sessuale non sono due sono mille eh però se io dico omosessuali se io dico trasessuali dico due cose e i bisessuali e poi ci sono anche loro appunto però anche lì e i transessuali appartengono a tutte e due appartengono a tutte e due le comunità cioè vedi che si entrano comunque ci si entra in discorsi abbastanza benissimo ma siccome io non sono bisessuale ma non me ne frega niente se sono discorsi difficili basta con questa storia che se sono discorsi difficili non si deve fare perché in questo modo che i ventenni sono diventati decerebrati vogliono fare solo le cose facili e semplici ma la vita è difficile la vita è complicata pone domande intricanti i bisessuali io non sono bisessuale se vorranno farsi una comunità per conto loro è una scelta che decideranno loro io non prendo decisioni per loro ma secondo me non c'è necessità neanche di dover creare ma chi sei tu per decidere se devono farlo e ti dico la mia idea come tu come posso chiederti chi sei tu per dirmi che necessariamente ci debba essere la comunità bisessuale la comunità omosessuale non sono io che glielo devo dire cioè l'esatto opposto di quanto mi fai dire io non voglio decidere se lo devono fare però io ti dico anche che da ragazzo di 21 anni uomini ragazzi giovani che si sono impegnati nel creare la comunità omosessuale ok io per esempio ragazzo di 21 anni come la maggior parte questo te lo assicuro in realtà in quella comunità che tanti hanno voluto costruire con tutte le forze tutto l'impegno noi non ci riconosciamo va bene allora siamo arrivati alla fine è stato un bellissimo dibattito quello che abbiamo avuto appunto sentendo poi più voce abbiamo parlato un po' di storia un po' di attualità insomma cioè questa è la cosa che conta è l'avere un dialogo e il poter dibattere e controbattere liberamente ed è appunto anche grazie a delle lotte che ci sono state ha tutta una storia che abbiamo detto se quest'oggi è possibile ed è possibile farlo vedere quindi questa è un'esperienza assolutamente molto molto ricca e molto molto significativa ecco quindi appunto ringrazierei ancora Giovanni Dell'Orto per la sua disponibilità a dir poco immediata perché l'ho contattato e dopo una settimana ci siamo nemmeno ci siamo visti e ovviamente vi invito i vantaggi della disoccupazione può avere dei vantaggi a volte quindi di niente appunto lo ringrazio vi ricordo di appunto che il suo libro è scelto una ventina di giorni poi troverete sulla mia pagina su pagina facebook troverete qua sotto anche link non link tutto quello che dovrete sapere insomma per andare a recuperare tutte le informazioni il suo sito e quant'altro non è meglio girare la macchina in modo che vedano te mentre parli? no io non mi faccio mai vedere sentono sempre la mia voce ma non mi vedono sai mai è un'essenza misteriosa esatto mi piace tenere il mistero e niente appunto noi ci appunto per vari contatti varie cose o scrivete appunto direttamente a Giovanni che tanto trovate su facebook come pagina facebook oppure appunto venite sulla mia pagina che è quella del letterarte appunto letterarte blog e da lì niente troverete tutti i link scrivete metto in contatto cose insomma comunque ne riparleremo sicuramente anche in articolo quindi niente per il momento grazie a te Giovanni grazie e alla prossima direi alla prossima grazie alla prossima